La Commissione Interamericana per i Diritti Umani considera che l'attuale assunto soddisfi i requisiti di gravità, urgenza ed irreparabilità contenuti nell'articolo 25 del suo regolamento. La Commissione sollecita lo Stato del Messico a prendere le misure necessarie per determinare e chiarire la situazione di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino al fine di proteggere il loro diritto alla vita e all'integrità personale. A questo proposito, la Commissione sollecita lo Stato del Messico a garantire azioni efficaci effettuando ricerche attraverso i suoi organi specializzati creati per tali scopi e riferire sulle azioni adottate al fine di indagare sui presunti fatti che hanno portato all'adozione di questa misura precauzionale. La Commissione chiede inoltre allo Stato del Messico di informare la stessa entro 15 giorni contati dalla data della presente comunicazione e di fornire regolarmente informazioni necessarie alla Commissione in conformità con l'articolo 28 del regolamento della Commissione stessa. Questa notifica è stata sottoscritta in data 16 marzo 2018 e sottoposta all'attenzione dello Stato messicano.